Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, voglio farvi vedere qualcosa di molto interessante. Sono andato in montagna alla ricerca di sideriti, piriti, con l'ottica forse si spera di trovare un po' di oro nativo. Sono già arrivato sull'affioramento e tra me ho una fantastica vena composta da quarzo e in particolare con dei sulfuri dispersi all'interno. Ci sarà oro? Lo vedremo presto! Ma iniziamo con ordine. Principalmente io cerco l'oro alluvionale, talvolta questo si trova sotto forma di pepite lungo i rii che io vado a eseguire le prospezioni. Semplicemente cerco l'oro lungo le fessure sul strato roccioso dove affiora. Talvolta vado anche in pianura alla ricerca dell'oro alluvionale in senso lato, cioè semplicemente di quelle pagliuzze che vengono concentrate a seguito delle piene idriche. In montagna il discorso è un po' diverso. Più raramente vado a eseguire prospezioni lungo antichi sentieri minerari, in quanto dovete sapere che le antiche gallerie non sono più percorribili e inoltre è entrata vietata. Quindi la ricerca in questi casi principalmente si ambienta nelle discariche minerarie, cioè dove semplicemente gli operai all'epoca andavano a prendere il minerale, la mineralizzazione, queste rocce ricche in elementi chimici che all'epoca ovviamente erano redditizi e cercavano di estrarne il più possibile. Tendenzialmente lasciavano sempre qualcosa sia lungo il sentiero e sia lungo il piazzale di lavoro, cioè l'area semplicemente all'uscita dalla galleria, come in questo caso. Alle mie spalle tutto quello che vedete bianca, astro, è un'enorme vena di quarzo idrotermale, in questo caso vi è all'interno anche della siderite e della pirite. Non sono sicuro vi siano delle tracce d'oro, vi dico subito la verità, ma durante la prospezione non vi è nessuna certezza, la prospezione è proprio quella fase di ricerca in cui cercate di capire se vi possa essere l'elemento chimico piuttosto che il minerale che state cercando. Proprio per questo si fa la prospezione. Quello che vedete davanti è l'entrata di un antico cunicolo, il quale a questo punto è solamente più agibile per circa mezzo metro, non andrò assolutamente all'interno, perché comunque oltre ad essere pericoloso è anche evitato per legge. Quello che adesso vedete invece è tutta la vena di quarzo termale che corre lungo il costone, tutta questa vena biancastra talvolta con delle patine di ossidazione, che semplicemente si parla di ferro, di osso di ferro, questo che è idrossi di ferro, questo sicuramente è uno dei fattori che ha fatto iniziare i lavori ai tempi. Però se uno andasse a rompere e a campionare vedrebbe facilmente della pirite. Al centro di inquadratura vedete l'entrata di un vecchio cunicolo, un secondo cunicolo sotto quello precedente, posizionato un paio di metri di distanza. Poi ho letto con il drone, vediamo che se viene dall'alto. Siamo pronti ad andare a fare prospezione aerea direi. Siamo pronti ad andare a fare prospezione aerea direi. Ben tornati, voglio farvi vedere un caso eccezionale secondo me, si vede proprio bene ragazzi, è molto evidente come in questo caso di nuovo ci sia la grafite associata a queste vene. Potete sapere che le rocce ricche in grafite, spesso chiamate grafitocisti, sono rocce che agiscono come se fosse una trappola per i solfuri in questo caso e a loro volte i solfuri agiscono come trappola per l'oro. Non ho ancora trovato oro libero nei sedimenti, né tantomeno nativo all'interno del quarzo, però tutti i presupposti ci sono. Vedremo poi macinando a casa se uscisse mai qualcosa. Adesso mi trovo con i miei piedi proprio lungo questa vena, principalmente costituito dalla quarzo termale, c'è un po' di carbonato e ogni tanto ci sono dei solfuri. I solfuri sono più alterati, soprattutto quelli superficiali, l'aria umida, le intemperie, fa sì che la pirite si alteri molto in fretta. Questo è un cristallo di pirite, potete osservare l'abito cubico, molto rossiccio, ci sono anche altri cristalli, quella una volta che si iniziano a vederne uno se ne vedono altri. C'è anche della siderite, soprattutto i solfuri tendono ad essere molto isolati, sicuramente rispetto alla cubatura del quarzo termale, che in questo caso è la ganga, cioè semplicemente il minerale inutile, i solfuri sono una minima parte. Ciò ci fa anche intendere che se ci fosse l'oro sarebbe probabilmente disposto in queste sacche ricche di solfuri, come proprio questa che vedete qua davanti. Vedete questa porzione rossiccia mi indica che ci sono di solfuri all'interno e su questo si potrebbe utilizzare ad esempio un martello con uno scalpello e andare ad asportare questa porzione. Attenzione che macinare questa porzione non vuol dire trovarci l'oro all'interno, l'oro potrebbe ancora essere nella pirite e di conseguenza non lo trovereste al piatto, trovereste la pirite. E come estrarlo a quel punto? Beh, ci sono tutti i processi chimici che non sto ad annoiarvi, però sappiate che soprattutto in questo contesto di ricerca e il mio obiettivo principale è quello di andare a campionare, sì, le mineralizzazioni, ma soprattutto quel terriccio, quel terreno a contatto tra le mineralizzazioni e l'ambiente circostante. Dovete sapere infatti che i solfuri, ma anche i carbonati di ferro, tendono con il tempo ad alterarsi chimicamente, producendo quello che si chiama deposito eluviale. C'è anche un'attività batterica intensa talvolta, tale per cui si va a produrre nel tempo un arricchimento anche urifero importante. Parlando di c'è la grafite, vedendo appunto questa avena composta di quarzo e come abbiamo visto con delle masserelle di solfuri, sia contenuta all'interno di una roccia incassante, semplicemente questa, come potete vedere, è questa al di sopra, al tetto si dice, e al letto si dice, composta da questo livello nero, come potete osservare. Questo livello nero e questo livello nero, probabilmente una volta erano il medesimo, sono stati fratturati, sono stati quindi allontanati leggermente e si è messa in posto l'avena all'interno, questa è un'ipotesi logicamente. Però quello che voglio dirvi è che è molto interessante, è che questi livelli neri sono composti principalmente da un minerale chiamato grafite, il quale è composto da un elemento chimico, il carbonio. Questa grafite, inoltre, è molto importante perché offre la possibilità di depositare i solfuri, quindi funziona come un orizzonte trappola. Potete vedere come in questo caso vi sia una porzione più ricca in solfuri, che sono semplicemente questi più rossicci, i quali, guarda caso, sono praticamente a contatto con l'orizzonte trappola che ha permesso la loro precipitazione, cioè la loro formazione in questo caso. Corre anche proprio al centro un arricchimento di nuovo di solfuri, talvolta sono più dei carbonati che dei solfurie, e raramente delle piccole geodi composte semplicemente da cristalli di quarzo più o meno cristallizzato. Quando i solfuri vengono giorno, cioè affiorano, tendono ad alterarsi, visto che contengono all'interno del ferro, si tende a colorare la roccia di una caratteristica patina rossa, come questa che potete vedere all'interno dell'inquadratura. Questa patina rossa col tempo viene dilavata dalle piogge, dalle intemperie, e quindi viene a formarsi al piede un terriccio, composto principalmente dai minerali costituenti la roccia stessa. L'oro, essendo un minerale inalterabile, tende a concentrarsi in questo terriccio. Abbiamo trovato dove affiorano le vene primarie, non sappiamo ancora se sono aurifere, però ci sono dei dati molto a favore, presenza di solfuri, c'è pirite, c'è calcopirite, c'è anche dell'arsenopirite, vi faccio vedere le foto per farvi capire meglio cosa sto parlando. Le vene sono veramente mineralizzate, tendenzialmente i solfuri sono solo in minima parte, ganga, quarzosa, un po' carbonatica. Ci sono anche, non solo solfuri, il ferro si è andato anche a depositare dentro i carbonati, formando della siderite. Tutti indicatori molto interessanti della possibile presenza di oro, però l'oro nativo non ce ne traccia così. Vedremo poi a casa del microscopio, la macinatura, se uscisse qualcosa. Di nuovo la grafite sembrerebbe essere stata un formidabile minerale, trappola per formare queste mineralizzazioni. Campionato abbiamo campionato, vediamo nei prossimi video come procede questa ricerca dell'oro nativo. Io sono Matteo Berto e mi raccomando nel caso in cui questo video vi fosse piaciuto di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella così che rimette sempre aggiornati nel momento in cui esce un mio nuovo video. Vi ricordo che c'è anche un blog che si chiama Matteo Berto Prospector dove potete trovare moltissimo materiale riguardo le mie avventure e invece gli articoli riguardo i contenuti e ricerca dell'oro li trovate sul sito Cercatori Oro Italia. Vi lascio tutto qua sotto nei dettagli. Udite, udite, ho trovato di nuovo la grafite e proprio, diciamo, mi seguo ovunque. Grazie a tutti.